Pace fatta tra Osimene e Garcia, o almeno sembra. Secondo voci di spogliatoio, nel post Bologna-Napoli ci sarebbe stato un faccia a faccia, conclusosi con le scuse del calciatore nigeriano per evitare ulteriori strascichi. Un chiarimento duro ma sincero dopo il malcontento espresso esplicitamente dall'attaccante al momento della sostituzione nel finale del match al Dallara. In casa Napoli non mancano però i problemi. Dall'infermeria arriva la conferma dell'infortunio muscolare ai danni di Juan Jesus, che resterà fuori circa un mese. Assente già a Bologna, il difensore centrale si è sottoposto ad esami approfonditi nella clinica di Castelvolturno, per lui diagnosticata una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il centrale brasiliano salterà quindi le sfide contro Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina e potrebbe tornare in campo il 21 ottobre contro il Verona. Contro l'Udinese intanto domani al Maradona mancherà anche Rachmani, che ieri ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie, allenamento personalizzato anche per Gollini.